Bella, presuntuosa e accogliente. Sous-titrage ST' 501 Colline, vigneti e tante tradizioni che nei secoli si sono incontrate e molto spesso fuse. Mi trovo a Cormons, in provincia di Gorizia, a pochi chilometri dalla Slovenia. Il nostro ospite di oggi è una delle voci più note d'Italia, Bruno Pizzul, radiocronista e giornalista sportivo. In questi luoghi ha i ricordi più cari della sua giovinezza. Classe 1938, tu nasci a Udine ma poi ti trasferisci in provincia di Gorizia. Dove esattamente? Mi trasferisco a Cormons, che è un paesotto, metà strada praticamente fra Udine e Gorizia, in provincia però di Gorizia. Lì sono cresciuto fino a 17 anni, sono rimasto sempre lì e poi sono andato in giro un po' a fare lo zingaro. Cormons, il luogo del cuore, il luogo quindi è detto della tua infanzia. Che ricordi hai di quel periodo? Ma sai, sono ricordi che spesso così si sfumano, anche perché ho vissuto da bambino, poco più che bambino, anche il periodo rimediato dopo guerra che è stato abbastanza travagliato, lì c'era stato il periodo dell'occupazione delle truppe titine. Poi la situazione si è normalizzata e ho i ricordi tipici di tutti i ragazzi, i giochi con i compagni, i problemi a scuola, i rapporti con i genitori che erano adorabili ma completamente diversi. La mamma era molto precisa, voleva che fossi bravo a scuola, che mi vestissi sempre bene. Mio padre invece era un pochino più ruspante. Bruno, però possiamo dire che poi negli anni tu hai ascoltato tua madre, perché prima di diventare la voce più famosa, diciamo, una delle voci più famose d'Italia, sei stato un insegnante di lettere, no? Sì, sono stato anche un insegnante di lettere, sì. Devo dire che quando sono andato via per provare a diventare un bravo calciatore, ho dovuto fare una promessa a mia mamma che avrei continuato a studiare e di fatti giocando, poi mi ero laureato, poi quando ero tornato al paese insegnavo alle scuole medie ed è un periodo della mia vita che ricordo con particolare piacere e anche con un pizzico di nostalgia. La storia di Cormons è legata a molte culture che qui si sono incontrate e i segni sono tangibili. Qui abbiamo Nino Panzera, storico. Ciao Nino! Ciao Fabrizio! Come hai voluto cominciare questo percorso per farmi conoscere Cormons proprio qui da questo monumento? Ma innanzitutto perché questa è la piazza che è il cuore pulsante della vita cittadina e poi perché c'è questo bellissimo monumento che è dedicato all'imperatore Massimiliano I d'Austria davanti a questa bella chiesa barocca che è un monumento che significa tanto per noi cormonesi perché significa l'appartenenza per tantissimi anni a una grande realtà amministrativa qual era l'impero d'Austria. Qua si incontravano la cultura tedesca, la cultura slovena, la cultura friulana e da questo abbiamo tratto un grandissimo bagaglio culturale che tuttora oggi ancora ci porta e ci spinge ad andare avanti con la nostra identità. Vi porti a fare un giro? Andiamo! Come mai qui si ricorda spesso il periodo passato sotto la casa d'Asburgo? Beh, 400 anni di storia non sono facile da dimenticare. Cormons nel 1497 passò sotto l'Austria perché Massimiliano fece delle pernote con Cormons e altri castelli. Era un periodo in cui la gente percepiva la certezza, la certezza della vita amministrativa, la certezza della vita economica e anche della vita sociale. Cormons per secoli è stato un luogo strategico di molte potenze e anche luogo di confine. Ma chi ci è passato? Beh, Cormons come tutte le terre di confine ha visto passare tutti. Immaginate una scuola elementare in cui c'è il ritratto dell'imperatore o del re o del presidente in una scuola normalmente. Ebbene, abbiamo iniziato secolo con il ritratto dell'imperatore d'Austria. Nel 1915 abbiamo messo il ritratto del re perché è italiano, il vittorio non è terzo. Poi di nuovo l'imperatore d'Austria dopo Caporetto nel 1917. Poi nel 1918 di nuovo il re, nel 1922 Mussolini. Nel 1943 abbiamo messo il ritratto di Hitler perché queste terre sono state annesse a Reich come Adriatici e Kusterland. Finita la guerra abbiamo avuto per 40 giorni Tito. Quindi in totale quanti sono stati? Poi Roosevelt e poi finalmente De Nicola. Nove ritratti in 50 anni. Andiamo, dai. Siamo arrivati in un luogo molto caro agli abitanti di Cormonze e non solo. Ma qual è la storia di questa chiesa? La storia di questa chiesa è dovuta a un fatto miracoloso di un Cristo, di un crocifisso che grondava sangue nel 1597. E da questo subito i cormonesi si sobracarono la spesa e fecero la costruire a questa chiesa a ricordo del miracolo. Che cosa rappresenta oggi? Ma rappresenta il punto di incontro di due comunità, quella comunità friulana e la comunità slovena. Il punto di incontro di un'armonia di due comunità, di un'unica cultura che si esprime in due lingue. Mi pare che tanti anni fa si è sposato anche Bruno Pizzo. E tanti si sposano qua, anche Bruno Pizzo si è sposato qui, sì. Tu lo conosci? Sì, lo conosco, tutti a Cormonze lo conoscono. Bruno Pizzo è diventato un nostro eroe nazionale, soprattutto è conosciuto in tutta Italia. Ma a Cormonze quando viene lo troviamo sempre nei bar, nell'osteria e stiamo sempre con lui a chiacchierare e a raccontarci le storie. Grazie Nino, sei stato fantastico. Da anni hai lasciato la tua terra trasferendoti a Milano, lì però c'è ancora qualche amico di vecchia data che possiamo incontrare. Ma sì, sai, di amici ce ne sono tantissimi, anche perché pur essendo io ormai da tanti anni trasmigrato a Milano, continuo a fare delle puntate a Cormonze dove c'ho anche una casa, quindi con mia moglie prima o dopo ci torneremo. E poi ho molti amici, soprattutto tra quelli che da ragazzini giocavamo assieme a calcio e quando ci incontriamo, sai, si parla di… Nella Cormonese. Ha cominciato nella Cormonese, ma quando si parla di quel periodo lì, ma quali i finali del campionato del mondo? Sai, quando giocavamo Cormonese contro, che so io, San Giorgina o Italagradisca o cose, quelle erano partite delle. Buongiorno. Buongiorno. A me sembra che qui a Cormonese vi conoscete un po' tutti. Ma lo conoscete Bruno Pizzu? Ma abbastanza, quando vieni qui giochiamo a carta assieme. E Bruno Pizzu è bravo a giocare? Madonna, è nato con le carte in mano. Eh, quindi ero bravo. Molto bravo, sì. E senti, ma che cosa vi puoi raccontare Bruno Pizzu? Quando giocavi? Ah, le volte che giocavi a carta, giocavi anche a biliardo bene. Ma lei è troppo alto per giocare a biliardo? No, anzi. Ah, domina, no? Ah, domina con la sticca. Sempre giocato bene. Gioca coppa e bastone. Coppa e va bene. Scusa, ma devo vincere questa, eh. Ha dei vinci a carta, eh. E tu che cosa vi puoi raccontare di Bruno? Intanto Bruno abitava qui vicino. Si giocava al calcio con... Eh, perché Bruno è stato, oltre che un telecronista, anche un calciatore di buon livello. È andato al Catania anche, sì. E anche tu giocavi al calcio? Sì. Dovevo andare a Catania con lui anche. Poi, il mio padre, fino a 21 anni, non si va fuori di casa. Oh, bene. Sei rimasto qui. Esatto. Possiamo dire che è una persona semplice, è rimasta... Molta la mano. Eh, molta la mano, è rimasto semplice, va bene? Sì, sì. Vabbè, io me ne vado. Chi sta vincendo, scusate? Due a due siamo. Ah, due a due, siete pareggiati. Posso andare? Buona partita, arrivederci. Ciao, ciao. Bruno, allora tornando a Cormons, quali sono i posti che dobbiamo vedere a tutti i costi? Ma sai, sono i luoghi dell'infanzia, no? Cormons poi è un paese adagiato ai piedi di un colle che un po' pomposamente noi chiamiamo monte, in realtà è poco più di una collina, il Monte Quarin, e quello era il teatro delle nostre scorribande infantili. Tutti in giro poi l'intero territorio, non soltanto del paese di Cormons, ma anche della zona del Collio, che è particolarmente amena e piacevole. Fra l'altro sul Monte Quarin ci sono i resti di un castello, che una volta era la sede proprio del patriarcato di Aquileia, quindi possiamo dire che Cormons vanta un importante patrimonio storico. Sì, per un certo periodo i patriarchi di Aquileia si fermarono anche a Cormons, e lì c'era questo castello che poi, essendo stato al centro di un'infinità di guerre fra gli Asburgo, gli Imperiali e la serenissima Venezia, all'inizio del Cinquecento fecero un accordo di distruggerlo, distruggiamolo così non litighiamo più. Adesso sono rimasti soltanto i ruderi di questo castello, il Torione, che però ha avuto una storia molto, molto intensa e ci si va ancora su a trovarlo. Come detto, Cormons è stato un luogo ambito da molti e questo ha portato anche lustro a questa città, come per esempio la fortezza di Monte Guarin, dove ci troviamo, che per lungo tempo è stata la sede del patriarcato di Aquileia. Cormons dunque può vantare un legame storico con una città già florida e potente ai tempi di Roma. Aquileia venne fondata nel 181 a.C. innanzitutto come avamposto militare nell'Italia nord-orientale, allora territorio gallico. In epoca imperiale crebbe sempre il ruolo e l'importanza di Aquileia, che giunse ad essere una delle dieci più importanti città dell'impero. Ci troviamo qui nel foro di Aquileia, che costituiva il centro della vita pubblica della colonia e poi del municipio. Lungo tre lati la piazza del foro era circondata da un portico, al di sotto del quale si trovavano le botteghe dove si svolgeva il commercio al minuto. Le merci che giungevano ad Aquileia via mare da tutto il Mediterraneo rifornivano anche i traffici che da qui raggiungevano le aree alpine e danubiane. Sono visibili lungo il lato occidentale, oltre 500 metri delle strutture del porto. Si riconoscono due livelli della banchina per consentire l'approdo delle navi sia con l'alta che con la bassa marea. Da qui poi si dipartivano delle rampe e delle scalinate che portavano ai retrostanti magazzini e botteghe. Ancora nel IV e V secolo la città conobre un periodo di floridezza e nemmeno con l'assedio di Attila nel 452 Aquileia finì. Infatti nel frattempo il baricentro si era spostato nella zona meridionale dove sorse la basilica con i suoi importanti mosaici. La tua regione è ricca di eccellenze enogastronomiche, no? Ricordiamo proprio anche la zona del Collio dove c'è la tradizione del vino. È la capitale del Collio dove si producono dei vini soprattutto bianchi di eccellente qualità. Anche tu sei un'estimatura di questi vini, eh? Sì, sì, sono anch'io. Tant'è vero che sono rimasto bianchista nel senso che sono stato svezzato con i vini bianchi del territorio. Fanno anche dei rossi che sono eccellenti, eh? Però i bianchi effettivamente hanno una qualità anche in rapporto con gli altri bianchi italiani veramente notevole. Ottimi prodotti di norcineria ci sono lì. Tanti prodotti di norcineria, no? Ci sono la zona del prosciutto più famosa è quella di San Daniele, che non è lontano da lì. Poi c'è il prosciutto di Sauris, ma una particolare attenzione va anche al prosciutto di Cormons, che è molto molto più limitata quantitativamente. È un prodotto quasi di nicchia, ma è un prodotto eccellente. C'è una storia un po' particolare. Anni fa, quando sul Corriere della Sera uscì sulle pagine economiche che Berlusconi era diventato più ricco di Agnelli, c'era ancora l'avvocato Agnelli, un paio di giorni dopo rispose con un trafiletto sul Corriere della Sera l'avvocato Agnelli, sì sì, sarà anche più ricco di me, però io riesco ad avere cinque prosciutti di Dosvaldo l'anno, lui solo due. Hai capito tanto per dire come era considerato a livello di nicchia questo prosciutto. Tra le tante tradizioni di Cormons ce n'è una che merita di essere raccontata, è quella del prosciutto e di una famiglia del luogo che con tanta tenace passione la porta avanti nel tempo. Lorenzo, buongiorno! Ciao Fabrizio! Possiamo dire che tutto è cominciato avanti a questo cammino? Ah, certamente! Negli anni 40 ha cominciato mio padre qua ad affumicare i primi prosciutti e questo l'ha preso da mio nonno che faceva il commerciante in Ungheria e ha cominciato ad affumicare. Infatti la particolarità del tuo prosciutto è proprio l'affumicatura, ma come viene fatta? L'affumicatura viene fatta usando del legno di ciliegio e poi aromatizziamo con del rosmarino e dell'alloro. I prosciutti poi vengono appesi all'interno del camino, viene bruciato il legno, sopra il fuoco c'è questa pentola e la pentola è anche piena di erbe aromatiche. E questo serve per sprigionare degli aromi. Allora, diciamo che voi producete, se non sbaglio, 3-4 mila prosciutti all'anno. Ecco, ma la vostra filosofia della vostra azienda non è cambiata? No, 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 non è mai cambiata. Io preferisco fare mille prosciutti per mille clienti che non mille prosciutti per un cliente solo. Tutti devono assaggiare questi prosciutti di Cormons. Possiamo dire così? Certo, certo. Ah, ma lei è tua figlia? Eh, guardala. La continuità, come si chiama? Monica. Monica, che facciamo? Assaggiamo? Direi proprio di sì. Eh sì, se lo dici tu. Vieni, una fattina. E dopo te ne do un'altra. Ma un profumo, guarda, è talmente buono che penso che dopo ti lascerò il mio indirizzo. Eh, grazie. Così ho un cliente in più. Bravo, milleuno clienti. Bene, bene. Ciao, ciao, grazie. Ciao, grazie a te. Ho appena finito di assaggiare un fantastico prosciutto di Cormons. Elena, ma qua si producono degli ottimi vini, ma sono migliori i bianchi o i rossi? Bianchi, sicuramente bianchi, ma sono bianchi di territorio, perché noi 80% del nostro territorio è di uve bianche, bacca bianca. Il resto è vino rosso, ma diciamo che noi per il bianco il nostro cuore batte a 100 all'ora. Senti, ci sono tanti produttori di vino in questa zona, no? Sì, ci sono tantissimi. Ci sono tantissimi produttori di vino e sono tutti produttori piccoli, da famiglie che gestiscono l'azienda in toto, per cui sono tutti a lavorare nelle proprie aziende e producono sia vino che hanno anche delle bellissime stanze. Che tipo di vino si produce? È Friulano, Ribolla Gialla e Malvasia. Questi sono i nostri vitini autoctoni. e comunque la cosa più importante è produrre un uvaggio bianco, che è il Coglio oppure l'Isonzo, perché Cormons batte due volte. Proprio il secondo batte uno, batte per il Coglio, che si sviluppa verso la collina, verso il confine con la Slovenia, e l'altro invece verso la Valata, verso il mare Adriatico, che è l'Isonzo. Facciamo un brindisi? Certo. Salute, Renan. Salute. Bruno, ci hai parlato di vino, ci hai parlato di prosciutto, il tuo piatto preferito però? Ma io sono di gusti molto, molto popolari. Se è fatta bene una buona pasta ai fagioli, io non dico che la preferisco tutto il resto. Poi ci sono i piatti anche tipicamente friulani, è un tipo di cucina che è strettamente legata al territorio, quindi non è nemmeno facilmente esportabile. E anche i ristoratori ce ne sono di buoni sul territorio, anche Cormons, di eccellenti, sono stati molto bravi a innovare come necessario nella loro cucina, ma restando legati a quelli che sono i filoni tradizionali della cucina, quindi c'è il filone che è legato alla cucina slava, quello che è legato alla cucina tedesca, mitteleuropea e ovviamente a quella latina. Un ristorante in buono dove noi possiamo andare davvero a gustare questi prodotti e li a Cormons. Sì, sì, è bellissimo. Guarda, ce ne sono parecchi, poi essendo io amico di tutti, mi dispiace fare dei nomi. Però mi riferisco a un dato fatto oggettivo. Qualche settimana fa su News Week è uscito un elenco con i 100 migliori ristoranti del mondo e uno di questi è a Cormons, hai capito? Con mia somma sorpresa, perché naturalmente è gratificante, credo che sia un po' esagerato. Ci sono tantissimi altri ristoranti veramente all'altezza. Sono sicura che il nostro Fabrizio andrà a testare. Sì, ci va a testare. Nel nostro viaggio abbiamo parlato di un costante incontro da culture diverse. Josco, immagino che questa abbia condizionato anche la cucina del vostro territorio. Non solo culture, ma anche genti diverse, popoli diverse. Qui l'Austria ha regnato 400 anni e ha lasciato una grande tradizione. Ma la cosa più importante è che su queste colline corre una linea microclimatica per cui fino a qui c'è il Mediterraneo con l'ulivo, con la vite, con il fico, con il melograno. Da lì in poi è finita. Vieni, Alessandro ci ha preparato un paio di questi piatti. Alessandro, vedi un trionfo di piatti l'uno diverso all'altro con culture assolutamente differenti. Sì, perché noi qua siamo in un paese di confine, eravamo sotto l'impero austro-ungarico fino alla Prima Guerra Mondiale, dunque anche i piatti rispecchiano la gente che è passata di qua. Cominciamo da questi pasti e fagioli? No, questa è orze e fagioli. Ah, orze e fagioli. In Friuli si usava l'orzo e la pasta si è conosciuta poco negli ultimi anni. Dunque è proprio una minestra tradizionale friulana questa, orze e fagioli classica. Questo piatto lo mangiò tante volte, Josco. La pasta è arrivata molto tardi, Friuli, e quindi la minestra era il piatto del mezzogiorno. Però mi sembra bello ricco, bello interessante. Questo vedo delle salcicce? Sì, no, queste sono provade musette, è una specie di cotechino, anzi è uguale al cotechino, solo che si usava a fare, solo con la parte del muso, del maiale, con la cotica del muso. Allora da questo musette. La provada non è altro che sono queste rape stufate in padella e il cotechino è bollito. Alessandro, questo è salame però? Sì, questo è salame, è salame fresco, scottato in padella con una noce di burro e poi sfumato con un aceto. Di necessità virtù. Perché? Perché una volta non si riteneva sano mangiare gli insaccati prima di una certa maturità. Di solito il salame si mangiava per San Giuseppe, che è il 19 di marzo. Se nel frattempo qualche salame cadeva per terra o qualche topolino si avvicinava e così, ovviamente non lo si buttava via. Quindi lo si scottava, lo si cuoceva per renderlo sano. Ma cuocendolo diventava molto grasso e allora molto aceto, perché l'aceto è l'antitesi del grasso. Questo è... Quindi prima del 19 marzo non si mangiava il salame crudo. Dopo il 19 marzo salame a go go. A go go. E questo cos'è? Questo è il filetto di cervo con la salsa di mirtilli. È una cosa che nel mondo austro-ungarico si usava già nel medioevo. Non si sapeva all'inizio il perché. Oggi si sa che i frutti rossi aiutano la digestione delle carri pesanti. Ed è vero? Ed è vero, ed è vero. E allora concludiamo questo, questo racconto di questi bellissimi piatti con il dolce. Sì, il dolce è il presniz, sarebbe la gubana... Come si chiama? Presniz. Sarebbe la gubana goriziana. Sì, è austriaco. Sì, è di origine austriaca. In tutto, in tutto l'arco orientale del Friuli si fa questo dolce. Solo che nella zona di Cidvidale, nelle valli, si usa la pasta lievitata al posto che la pasta sfoglia. Ma il ripieno è sempre frutta secca, miele, un po' di cacao. Ancora più pesante. Allora, poi abbiamo invece la ricetta di oggi. Questo piatto qui, che è un primo piatto. Che è un primo piatto? Sono gli gnocchi con le susine. Questo è proprio l'espressione della mittele europea. Il piatto che gli austriaci mangiano come dolce, gli italiani mangiano come primo. La ricetta? La ricetta non è altro che un impasto di patata, come per fare i gnocchi. Viene ripieno con una frutta tagliata a pezzi, appena appena scottata. Viene condito con del pane tostato, un po' di burro, zucchero e cannella. Grazie Alessandro, grazie Iosco. Diciamo che Bruno Pizzo ha la propria ragione. I piatti di questi luoghi sono tutti squisiti. Quando torni lì, Bruno, come ti accolgono i cormonesi? No, 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 ma in modo molto, molto tranquillo a restire. Continuano a considerarmi quello che mi hanno sempre considerato, assolutamente senza nessun tipo di osama e via, per l'amor del cielo. Che cosa pensi dicano i cormonesi di Bruno Pizzul? Ma niente, non è che abbiano mai, sai, vissuto con eccessivo trasporto e entusiasmo. No, te l'ho chiesto perché in realtà noi siamo andati a curiosare tra i cormonesi che cosa ne pensano di Bruno Pizzul. Ah, siete già andati? Siamo già andati, vuoi vedere? Beh, si fa vedere. Pizzul, forse non tutti sanno, ma è una persona che è disponibile a sostenere il volontariato e la solidarietà. Umanità, simpatia, umiltà, queste le dotti maggiori di Bruno, un esempio per tutti. Un vero sportivo, quando è a cormonesi è sempre in bicicletta. Con una voce così non poteva fare altro nella vita. Abbiamo conosciuto qualcosa di più di Bruno Pizzul e dei selughi del cuore, ma è stata un'occasione per visitare insieme a voi una terra dai mille volti, ma con un'unica anima. E adesso vediamo come la nostra pittrice Emanuela Sain ha ritratto Bruno Pizzul. Volete sapere come continua il viaggio in Mixtalia? E allora ci vediamo domenica prossima sempre su Rai1. Ciao!